Chiudono le aziende, gli imprenditori gettano la spugna e i negozi abbassano le saracinesche e i centri storici sono sempre più deserti. La crisi colpisce tutti, senza distinzioni, dalle realtà aperte da poco agli storici esercizi commerciali, che a causa dei guadagni ridotti sono costretti a chiudere. Come sta per accadere al negozio Zannoni, nel centro di Iesi, che sta smennendo tutto prima di cessare l'attività? Questo negozio, praticamente mio padre l'ha fondato, era stato rifondato proprio da mio padre nel 1946, da un vecchio negozio decrepito proprio che stava per chiudere, e gli ha dato una vivacità che allora, parliamo del 1946, mio padre che non era Iersino ma veniva da Ferrara, quindi con una mentalità completamente diversa, è dato un nuovo impulso e così piano piano si è sviluppato, è diventato un negozio penso molto importante in un certo periodo storico specialmente. Quindi fa parte proprio della storia della via qui che purtroppo sta un pochino morendo, perché vedo che ci saranno tanti altri negozi forse che non so se riusciranno a rimanere aperti in questo momento di crisi. Io sin da ragazzino mi ricordo, quella volta avevamo anche i tessuti, abbiamo avuto i tessuti fino a 3-4 anni fa, quindi ero ragazzino, 10-12 anni, mio padre mi chiamava, c'erano i magazzini con i depositi della merce, ci dava su queste 4-5 pezzette e ci le faceva portare in magazzino, poi ci ricompensava con un pezzo di pizza, e un tantino di Coca-Cola per dire, quindi ci sono sempre stato. Le cose sono cambiate notevolmente, prima di tutto adesso a prescindere dalla crisi che è forte, come dicevo prima, veramente molto molto forte, è cambiato anche il sistema del commercio in genere, la grande distribuzione dove tutti quanti vanno tranquillamente, entrano lì e vanno a fare le spese e trovano di tutto, dalla biancheria al genere alimentare, alle scarpe, eccetera, per cui è diventato poi soprattutto, e questo secondo me è molto brutto, anche un punto di incontro tra le varie persone, specialmente le persone più anziane, si dà l'appuntamento lì, purtroppo è diventata dura, stare qui, vendi di meno, mentre i costi purtroppo sono aumentati, non di meno, ma parliamo di costi fissi, non le tasse, uno dice, vabbè, le tasse le pago in base a quello che guadagno, se guadagno poco pago di meno, se guadagno molto pago di più, invece qui si ricava di meno, ma i costi di spese generali, soprattutto poi quelle che sono le spese le più varie proprio, dall'immondizia, le spese fisse, proprio aumento di telefono, luce, riscaldamento, e quelle indipendentemente dal fatto che uno venda o meno, sinceramente sono sempre le stesse.